Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui cari naviganti per un nuovo video dedicato a Commander e questa volta ci spingiamo nei meandri in Dr. V, perché qui ormai la wizard sta spaziando con i suoi universi beyond un po' dappertutto e siamo di fronte a una carta bellissima nel suo design, stranissima, che con Demetrio del bazar di Via Lata, ciao Demetrio, andremo ad analizzare nel dettaglio. Perché? Qua entriamo in una carta che tocca le corde del mio spirito uvian e del mio spirito izet. Esatto. Io sono anche un po' uvian anch'io chiaramente, ma ho altre ambizioni diciamo al punto di vista del Dr. V, sono molto tentato dai Dalek, ma per la questione mia personale di cattiveria intrinseca. Ma al netto di questo, che dire, River Song è una carta... Un personaggio bellissimo della serie e che qua lo vediamo anche come personaggio rottissimo sulla carta. Assolutamente! Anche perché, come sempre ringrazio Traduzione Metigita che ci ha fornito la versione italiana della carta, il ruling è ben strano, eh? Sì. E tra l'altro va a ripescare una cosa che dai tempi di Grenzo non si vedeva. Eh già. Ma andiamo con ordine. River Song costa un mano generico, uno blu e uno rosso, quindi tre mani in tutto, per un faradutto signore del tempo umano. Sì, perché adesso abbiamo anche Time Lord. Esatto. Ricordiamo che signore del tempo o Time Lord è un solo singolo tipo. Sì. È un solo singolo tipo ed è specifico chiaramente per questo set di Universi Sbion che parla di Dr. V e di questa lore. E ha due abilità. Una dice incontrarsi al contrario, peschicarti dal fondo del tuo grimorio invece che dalla cima. Che strano! Attenzione! Che cosa incredibile! Cioè, questa cosa ci permetterà di fare tante di quelle brutte cose che voi non avete idea. Adesso lo vedrete. Ci arriveremo. Infatti la seconda parte della verità è spoiler. Quindi abbiamo già detto questa roba del fondo della libreria un po' strana. Ogni qualvolta un avversario profetizza, sorveglia o passa in rassegna al proprio grimorio, metti un segnalino più uno più uno su River Song. Poi River Song infligge danno a quel giocatore appare alla sua forza. Cosa? Già. Già. Quindi abbiamo un personaggio che di fatto ribalta il suo al contrario. È un po' in stile di questi personaggi. Ovviamente a livello di lore è assolutamente azzeccato perché il tempo per loro non esiste. È un qualcosa che può essere gestito al contrario, ribaltato. Assolutamente non ha un concept tradizionale per noi poveri mortali. E dall'altra parte unisce un effetto che in qualche modo interagisce con le attività avversarie. che non sono poche. Ma in modo strano. Ma in modo strano. Perché cresce di costituzione di forza. Quindi si gonfia. E li pinga. Cioè li colpisce. E qui. Allora. Andiamo con ordine. Perché questa roba qua è molto spicy. Non sembra neanche Izzot. Sembra quasi Dingre. Però ammetto che è assolutamente interessante nell'ottica del personaggio perché appunto è un time lord un po' strano River Song. Diciamo così. Non spoileriamo nulla. È un peccato che non si energizzi con Fate Seal. Ma sappiamo che ci sono poche carte con Fate Seal. Quindi ci sta. Sì sì. Ma lo vorrei Fate Seal. Ma è una meccanica troppo rotta che non faranno mai più nella loro vita. Immagino di no. Ma andiamo con ordine e cominciamo a vedere con cosa interagisce questa carta. Perché uno dice vabbè ma pescare dal fondo. Ma che schifezza è. Ma perché dovrei voler pescare dal fondo? Beh diciamo che ci sono delle cose interessanti. Diciamo che c'è una quondicina di carte e sono poche. Ne abbiamo selezionate solo una fetta che fa fondamentalmente due cose. O prende le carte e le mette nel fondo anche dal cimitero tra l'altro. Esatto. Quindi questa roba è assolutamente una ricorsione dal cimitero. Una ricorsione dal cimitero potentissima perché ci permette di riprendere le stesse carte che abbiamo appena giocato e rimettere in fondo. Oppure banalmente con gli effetti di Scrai i classici mettiamo nell'ordine che vogliamo le cose a fondo. Quindi di fatto decidiamo noi cosa pescare. E questa cosa ci protegge anche da strategie avversarie come ad esempio il 1000. Certo. Perché sicuramente noi metteremo carte dal cimitero al fondo del Grimorio, area che accettiamo, che gestiamo. Per esempio Raito Lantern è una carta che ci dice prendi una carta dal cimitero e la metti in fondo. Benissimo. Benissimo per due motivi. Il primo perché riscegliamo la stessa carta appena giocata, magari perché ci piace, oppure evitiamo di morire perché continuiamo a mettere carte dal nostro mazzo, dal fondo del cimitero al fondo del Grimorio e chiaramente questa cosa continuerà a far ricrescere il nostro Grimorio e quindi evitando di essere in qualche modo, di morire non potendo più pescare carte. E di effetti di questo tipo ce ne sono diversi. Molto strani alcuni. Junkthroller, Jedi Style, tra l'altro tutta roba che arriva dagli set del passato vecchissimi. Esatto. E si vede lì una piccola cosa che è diabolica. Piccola mica tanto. Piccola mica tanto. Pensa Steinstein Navigator dice due cose. Prima di tutto gestisce il City Blessing, quindi se io ho dieci permanenti in campo ottengo questo simbolo che non perdo più, tra l'altro, anche se per me si sono permanenti. E dice questo. Pago due managenerici e due blu e lo metto in fondo alla mia libreria, ottenendo un turno extra. Quindi, contando per di più che con il rosso, dare rapidità non è una cosa così difficile. No, per niente. Profumino di turni infiniti. Profumino di turni infiniti, oltretutto perfettamente in flavor con il nostro River Song, perché River Song è un maestro del tempo, è chiaro che avere turni infiniti è la cosa perfetta per questo tipo di comandante. Quindi abbiamo tranquillamente una carta che, se non viene esiliata per l'altro, potremmo rigiocare con gli altri effetti che abbiamo visto. Quindi, oltretutto, abbiamo anche una certa resilienza, non lo state se è una creatura, proprio perché abbiamo un modo di riprendere le carte dal cimitero e rimetterle in fondo, e se le rimettiamo in fondo le peschiamo. Oltretutto, tutti gli effetti che fanno pescare, non pescano dalla cima, pescano dal fondo. Eh già. Perché, come si dico... Prendiamo ad esempio, visto che c'è in questa schermata, Teferis Puzzle Box. Sì. Permette a noi di avere le stesse identiche carte che ne abbiamo buttato in fondo. Esatto. Ma, per gli avversari invece cambia gli completamente le mani. Questa roba qua è una roba, io la usavo in grenzo, questa carta qua è rottissima in quel mazzo per questo effetto. Noi sappiamo perfettamente cosa pescheremo. Ci stiamo assolutamente costruendo la pila come vogliamo noi. Gli avversari hanno le mani scombinate. Esatto. Non riescono più a gestire nulla. Hanno difficoltà, ovviamente, sulla pila, non riescono più a controllare le loro mani. Se devono costruirsi un gioco, praticamente, è per puro caso. Questa roba, veramente, è molto forte. Come alcune carte strane, come ad esempio Tomming Stone, che dici, ma che c'entra? Tomming Stone normalmente viene usata quando hai mazzi con molte carte uguali, perché ti permette di rigiocare. Tipo in Ratti, oppure in Persistent Petitioners. Oppure gli Apostoli. Esatto. Cose analoghe, dove posso avere tante carte dello stesso tipo all'interno di un mazzo, perché superano la regola della singola all'interno del Commander. Però, in questo caso, le carte che io non prendo, le metto comunque in fondo alla mia libreria. E, oltretutto, non dice in ordine casuale. Dice semplicemente che le metto in fondo. Quindi, e ci do io l'oro... Questa cosa funziona anche con cascata. Pensa un po'. Quindi, capite che questa cosa, unita a altri effettini che vedete qui, ci apre praticamente le porte a un mazzo che ha il totale controllo della pila. Ebbene sì. E quindi, capite bene, in un mazzo Commander, dove ho 100 carte, dove tendenzialmente vogliamo avere un po' di controllo, qui siamo in una botte di ferro. L'unico nostro problema, veramente, in questo caso, è avere uno di questi pezzi, e poi vedremo anche come trovarceli, e gestire tranquillamente la nostra partita, stando comodamente seduti, mentre gli altri si lambiccano il cervello come uscirne, perché gli cominceremo a creare un po' di problemi. Chiaramente, fare questi effetti, non tanto River Song, perché è una carta che costa abbastanza poco, ma in generale questi effetti hanno i costi di mana. Quindi, ovviamente, quello che vogliamo è pescare e fare vantaggio, ovviamente sfruttando questo effetto in primis, e poi, come vedremo anche in seguito, fare molto mana. Perché? Perché ci sono un sacco di carte che ci permettono di, anzi, non solo di pescare un po' di carte, ma di pescarle come vogliamo noi. Ebbene sì. Perché qui cominciamo a dire, ah, sì, fammi guardare la prima carta del mazzo, peccato che io non pesco dalla prima carta del mazzo, poi vedo com'è, allora poi decido di metterla sotto, oppure no, la metto nel CV. Cioè, giocare con la pila come vogliamo, per fare in modo che io riesca sempre ad avere il controllo della situazione e pescare quel che voglio. O comunque avere una forte probabilità di pescare esattamente quello che mi fa comodo. Per esempio, questa carta, io mi permette, il diventi mi permette di, non solo avere la mano praticamente infinita, ma di pescare carte in base al risultato, pescandole dal fondo e sfruttando qui tutti quegli effetti che magari mi mettono carte in fondo, come abbiamo visto prima. Quindi, abbiamo la possibilità di sfruttare questi effetti. Ad esempio, questa carta qua, io l'adoro, perché... Eh, sì, Mystic Speculation è una carta incredibile. Qua dentro è esagerata. A del fatto che ha buyback, ma al fatto che mi permette con lo scrive di mettere le carte in fondo. Ma, adesso te la butto lì, perché qua arriva la mia carta pazza, che non credo ti abbia inserito, perché è una carta che si conosce poco, che è Collected Conjuring, che è la versione IZ di Collected Company. Connected Conjuring. Io comincio così. Quella J. Eh, ma non me l'ha presa. Aspetta. Con... J. Voilà. Proviamo. Sì, eccola qua. Esiglia le prime sei della tua libreria. Puoi castare. Aspetta, lo guardiamo in italiano, così la diciamo anche meglio. Puoi lanciare fino a due carte stregonerie con costo di mana, convertito paro inferiore a tre. Scegli tre senza pagare il loro costo di mana. Metti le carte esiliate, non lanciate in questo mondo, in fondo a torrimoni in ordine casuale. Quindi ci fa lanciare due stregonerie e non perdiamo le carte. Sì, sì. Così. È uno dei posti migliori dove poter mettere questa versione IZ di Company. Certo, assolutamente. Tra l'altro, ovviamente dovremmo puntare ad avere una curva abbastanza bassa per puntarla bene, però sicuramente una carta interessante che può avere senso. Ecco, qui con questa carta abbiamo fatto appunto un'analisi di una carta un po' particolare da inserire, ma... La mia aggiunta pazza. La tua aggiunta pazza. Ma chiaramente una carta di questo genere e in generale tutta questa gestione della pila che richiede, come dicevamo prima, un po' di mana, naturalmente va alimentata con un po' di... E il rosso qua ci dà una grossa mano. Qua ci dà un'enorme mano. Infatti da un po' di tempo a questa parte il rosso ha deciso, vabbè, il rosso non faceva abbastanza bene il mana, aveva dei problemi. Diamo gli tesori. Diamo gli pacate di strumenti per fare mana. E qui ce ne sono di nuovo solo alcuni. Poi, ad esempio, ne ho scelti alcuni particolarmente pesanti per le partite avanzate dove ci serve magari... Ma la Geyser, carta di concetto, bellissima. Sì, sì, assolutamente. E Naeb, ce ne sono tantissime di carte così. Chiaro che qui non è il problema del comandante. Il comandante non ha un'abilità che costa mana, quindi lui fa il suo mestiere. E tutto il contorno, come abbiamo visto prima, questi effetti in qualche modo richiedono mana. Il fatto di avere questi pezzi che magari servono a manipolare un po' la pila o richiedono tanto mana per funzionare oppure più mana spesso per poter fare questi effetti. Scorrolac, ad esempio, che ha questo effetto col pagare uno. Quindi ci conviene avere qualche produzione, no? E cosa c'è di meglio dei tesori? Cosa c'è di meglio dei nostri bei rampini? Esatto. E ricordiamoci che in Commander esiste anche High Tide. Eh sì. Nel caso volessimo aumentare il mana blu invece che il mana rosso o in generale i tesori. Certo, ma qui ripeto a differenza del passato dove eravamo un po' per esempio presso a Birghi altra carta che ci fa aumentare il mana abbastanza esponenzialmente se abbiamo gli strumenti giusti ci dà anche modo questa sezione di fornire benzina al mazzo che ripeto sarà molto dispendioso in quanto a mana perché continuando a permetterci di manipolare ci permetterà di pescare ci permetterà anche di giocare ma se non abbiamo il mana è chiaro che ce ne facciamo un po' poco delle carte che in qualche modo ci fanno fare il vantaggio che vogliamo perché solo pescare in questo caso sarebbe un po' sterile ovviamente con questo meccanismo per avere mana per avere value ci serve qualcosa per in qualche modo tenere a freno gli avversari tenerli un po' bada perché qui quando la gente comincerà a capire dove stiamo andando a parare si cominceranno tutti un po' agitare sul tavolo secondo me perché qui cominciano a vedere pesco tre carte prende la stessa carta giocata la rimette nel fondo dell'agrimolio e la riprende come ne usciamo da qui e quindi ci vanno una serie di mezzucci qua e là soprattutto quando poi entra nel gioco time stream navigator la gente inizia a preoccuparsi direi proprio di sì anche perché ha smesso di giocare e ripeto poi vedremo più avanti non sono gli unici strumenti che ci permettono di fare veramente grandi cose qua dentro perché quindi ha senso fare in modo di proteggere principalmente io lo vedrei più come un'ottica di protezione più che di interazione perché abbiamo già un bel pacchetto di carte che dobbiamo assolutamente tenere insieme per fare in modo che il fondo del grimorio sia valorizzato al massimo è chiaro che qui ci serve giusto per dire benissimo non rompermi le scatole lasciami giocare in pace stai alla larga è poco di più non è un mazzo pensato per interagire particolarmente con gli avversari si può proteggere un pochettino le sue chiusure le sue combo non ha questa finalità troppo aggressiva nel confronto del gioco avversario almeno sulla carta poi certo che se arrivano tante creature tu vuoi sfrattare ma l'idea l'idea secondo me come concept sarebbe meglio riservare gli slot giusti ma non esagerare no perché poi ho già le 5 6 7 carte è meglio più la protezione singola per il comandante o per i pezzi giusti piuttosto che la vratta che è più danno a noi che quello che ci dà di vantaggio si anche perché in alcuni casi i nostri i nostri trick arrivano proprio dalle creature quindi esatto dobbiamo un attimino valutare cosa scegliere piuttosto anche giocare che tu quando ne hai messo ma che visto che è buon buona parte del nostro vantaggio deriva da creature provare a giocare filter out potrebbe essere un'idea anche intelligente io oggi sono on fire con le carte ma ci credo è il tuo ambito questo sono i tuoi colori mi sembra anche giusto e beh sì assolutamente qualche rimbalzino globale è globale ma non tocca le creature può essere sicuramente utile nelle nostre finalità oltretutto in alcuni casi ci permette anche di riprendere qualche pezzo per salvarlo tipo qualche sasso qualcosa quindi può essere anche come protezione in senso in senso in risposta a un vandal blast potrebbe essere interessante direi proprio di sì 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 è anche qui di nuovo una carta particolare che non si vede tanto e quindi secondo me no anche perché appena è uscita e secondo me la gente non ha ancora trovato bene i posti dove inserirla ma secondo me questo potrebbe essere un buon posto sì sicuramente sì poi costando tre mani è assolutamente instant instant tra l'altro non cosa non disdegnare chiaramente noi lo citiamo sempre tutte le volte anche perché non sarebbe non sarebbe un video sul tuo canale se non ci fossero dei tutorial in mezzo è così no io è una questione di acculturamento delle persone perché dovete capire che se volete le carte spicy nella vostra mano dovete avere dei modi per trovarle su 99 carte non è così scontato non uscite senza qualche strumento perché è vero che peschiamo tanto ma la pescata è randomica soprattutto ci serve ti cerca esattamente quello che vuoi come dico sempre dovete cercare la consistenza nei vostri mazzi e poi potete farlo in base al budget potete scegliere le peggio cose non ha importanza non è detto che debbano essere per forza delle cose costose possono essere anche delle scelte economiche budget mother the mixture è una comune assolutamente a costi bassi in generale transmute è un'ottima abilità c'è anche tipo drift of phantasm in questi colori che va a cercare carta A3 ci sono delle scelte assolutamente ma fatele perché sono carte utili per dare la consistenza soprattutto su quei pezzi e quelli che abbiamo appena fatto vedere all'inizio cioè quelli che vi permettono di manipolare la vostra pila il vostro bottom del vostro grimorio sono fondamentali per questo mazzo perché vi svoltano veramente la partita quindi trovarli e giocarli e trovarli in fretta è assolutamente importante quindi qui ce ne sono alcune di carte non è ovviamente una selezione completa chiaramente varieranno molto se volete gli artefatti se puntate di più alle creature cosa volete scegliere ovviamente qua spazio alla fantasia e alle carte possibili ma qui lo vedo importante proprio perché avendo una meccanica molto particolare che ha bisogno di un supporto esterno perché River Song ti fa solo pescare da fondo non fa niente non fa un qualcosa di specifico è chiaro che questa cosa è importante perché fa in modo che il tuo mazzo giri meglio ecco perché io insisto sempre nei nostri brainstorm su questa cosa un po' perché io sono una persona che ha una fortuna proprio non cieca completamente beddata a tre mandate quindi non pesco neanche volendo e quindi i tutorial per me sono fondamentali ma è proprio nella scelta generale di design che vanno tenuti in considerazione poi quanti il costo quanto volete investire in vostro mazzo è tutto a vostra libertà ma è un'area che secondo me va sempre tenuta in considerazione assolutamente come in questo caso va tenuta in ampia considerazione una parte che serve a proteggere il comandante ma anche a fare un'altra cosa perché ricordatevi l'abilità del nostro adesso la vado a riprendere un attimo del nostro nel nostro River Song ogni qualvolta un avversario profetizza sorveglia o passa in rassegna al proprio grimoio metti un segnalino più uno più uno su River Song poi River Song infligge il danno a quel giocatore parere la sua forza già ecco allora apriamo una piccola parentesi chiaramente il comandante va protetto perché ha questo bell'effetto di pace pescare dal fondo e avendo un mazzo che è ruota su questa logica se ce l'abbiamo in campo è bene e soprattutto è bene anche tenerselo ben stretto in campo ma è altrettanto importante sfruttare il fatto che fa danni infatti non a caso questo Curiosity qua dentro o o figlia Nye che chiaramente cosa fa quando fa danno ci fa pescare senza passare dalla combat oltretutto quindi a maggior ragione queste carte sono efficienti come sono efficienti tutte quelle carte che ingrossano la forza Klock and Dark era un esempio classico di carta che fa da protezione ma gonfia che la forza e era da più di zero quindi danni non saranno quelli che abbiamo visto prima due ma saranno quattro capite che è una discreta differenza se poi usiamo Imperial Plate che è la creatura equipaggiata a più o più o per ogni carta che abbiamo in mano e noi peschiamo è una cosa che diventa interessante diventa particolarmente interessante senza contare che ci sono carte che ovviamente alcune ci fanno pescare grazie ai danni tandem lockout esempio o come in questo caso qua raddoppiamo i danni ne ho scelte due a caso rosse giusto perché anche qui in ottica Voltron quindi volendo fare danni anche da comandante perché il River può anche picchiare volendo ma nel fatto di far danni direttamente in stemporanei noi triggeriamo l'effetto benissimo raddoppiamo la forza del nostro comandante che da 2, 3, 4 diventa 8 e ricordiamo anche secondo me un paio di carte da aggiungere a questa sezione possono essere City on Fire anche se lo so che costa un rene a livello di mana ma triplicano il danno che infliggiamo si ma hanno con Vogue quindi magari in un'ottica pediglina esatto o anche Solfim Mayhem Dominus è quella PH Ah ok me l'ha trovata lui che fa esattamente lo stesso lavoro ma costa 4 anche se è una creatura certo si si poi gli effetti che raddoppiano o triplicano nel rosso danni ce ne sono tanti e poi visto che il nostro comandante si gonfia esiste sempre l'opzione fling certo che è sempre divertente da fare o fling oppure c'è non mi ricordo più mi sembra Jaya Blast qualcosa che lo fa su tutti i giocatori tutti gli avversari proviamo a cercare non mi ricordo più il nome esatto non c'è problema tanto ho scritto sbagliato mi sembra che sia una carta legata a Jaya non vorrei dire una cavolata no c'è una carta che ci permette di sacrificare una creatura e fare fling su tutti gli avversari non mi ricordo più come si chiama deve essere Chandra Ignition Chandra Ignition bravissimo io confondo Chandra e Jaya perché sono praticamente lo stesso personaggio solo che uno è anziano e l'altro c'è morto ormai e l'altro si è Chandra Ignition Chandra Ignition che costa 5 e la creatura dà danni alla sua forza a tutti gli avversari che abbiamo un comandante che pian piano diventa grosso 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 perché no? diciamo che abbiamo cambiato completamente il target è il modo di vedere questo mazzo questo è un altro modo di vedere il mazzo assolutamente dal gestire la pila fare un pseudo controllo o altro ti asfalto a forza di danni in puro stile rosso mi sembra anche assolutamente giusto diciamo che qui col fatto che noi puntiamo anche a fare turni extra a cercare magari di fare molto mana con questi effetti che dicevamo prima è anche carino magari poter sfruttare il fatto che potremmo arrivare a uno pseudo late game con un bel po' di mana e tutta una serie di cartone che poi da lì ci fanno svoltare completamente la partita in un modo o nell'altro perché o ci fanno pescare un sacco di carte o ci danno modo di giocare il mazzo praticamente senza pagare mana eccetera eccetera è chiaro anche qui di nuovo una vision completamente diversa di questo comandante che spazia veramente da tutto io ci ho piccato dagli Eldrazi a Omniscience quindi giusto per farvi capire perché nell'ottica di sfruttare i turni extra e tendenzialmente l'idea di voler cercare di rampare con i tesori di fare questo discorso e soprattutto di ostacolare anche gli altri nelle pescate quindi di avere tempo per in questa sezione può anche finirci una tempesta di Saruman che ci copia la seconda spela ogni turno si vede che sono i tuoi colori esatto si vede che si 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 e beh certo con Egida 2 Egida 3 è la possibilità di copiare Egida 3 scusa è la possibilità di copiare addirittura delle magie in generale quindi anche creature si si vediamo che qua avere doppio time stream navigator avere cose interessanti si si assolutamente non è male assolutamente qui abbiamo apriamo le porte a un altro tipo di design chiaramente ma qui dipende un po' anche qui libera scelta dal gusto il fatto anche qui di nuovo a parte questo trick del guardare dal bottom il comandante ha diversi piani di azione anche in questo caso è molto aperto a poter fare delle scelte particolari ma ci sono alcune chicche che chiaramente in ottica di chiusura in ottica di vantaggio sono chiaramente presenti in questi colori e alcune sono proprio i grandi classici dei colori izet vedo già brain freeze e sono contento io vedo dual master major twin flame sono anche contento anch'io nel senso che comunque sono tanti piani in questo caso il fatto di pescare molto e dal fondo potrebbe aiutare anche il piano 8000 assolutamente senza andare a cercare niente di strano and the war breach è una cartona in questi colori che anche solo per il fatto che ci fanno giocare le carte dal cimitero è ottima perché ci permette magari di riprendere di nuovo l'azione dopo una varata dopo qualcosa quindi anche non in ottica puramente combo ed è qui che si aprono le danze a tutto quello che ci permetterebbe di chiudere al netto che potremmo usare il comandante al netto con il mana che facciamo possiamo anche provare a buttarci dentro un mind's desire così per gradire per esempio si si l'ho inserito qua no mind's desire no ho inserito mind's violation ma adesso andiamo a cercarci anche mind's desire che tra l'altro ha il tempo della registrazione appena sbannata in legacy io ho già visto Ray Duke fare cose che neanche voi umani potete immaginare ma al netto di questa battuta sicuramente qui entriamo nell'ottica storm chiusure di grande big spell potremmo usare i riti potremmo usare qui avendo uno strumento che ci agevola molto manipolare il grimorio e quindi pescare bene è chiaro che qui ci possiamo anche prendere lo sfizio di provare qualcosa di interessante in linea con i colori e col fatto di avere uno strumento che ci dà mana turni cose golose cose divertenti ma io qui mi sono poi divertito a trovare una cosa un po' più inclinea alla mia mentalità da giocatore che è questa perché noi abbiamo detto che gli avversari vengono colpiti danneggiati se fanno scrai se tutorano se fanno surveil della forza del nostro comandante ma se noi li forzassimo a farli questi gesti perché ci sono delle carte ci sono delle carte che possono spingere gli avversari a fare scrai a fare pescate assolutamente questa roba qua si unisce a un piano posso definirlo caos mettiamola così dove noi sforziamo gli avversari a fare delle cose contro la loro volontà in modo tale che attivino l'effetto del comandante più spesso più del normale perlomeno è chiaro che questa cosa si unisce a carte anche strane molto spicy ad esempio from the ash è una carta stranissima si distrugge tutte le carte non basiche per ogni terra distrutta il suo controllore cerca nel suo mazzo per una carta base e la mette nel campo di battaglia e poi mischia il grimorio chiaramente io sto innescando volontariamente per gli avversari un effetto di tutto raggio continuo eh già quindi questa roba qua al di là del fatto che gli distruggo la mano base quasi sicuramente e magari non gli permetto neanche più di tanto di fare il loro effetto nella prima ipotesi nella seconda se hanno tante basi che li costringo a farsi pingare più e più volte dal mio comandante che se è un pelo grosso li uccido quindi capite che questa roba è abbastanza strana certo bisogna cercare il WB1 si attiva ogni volta che mettiamo un segnalino sul nostro comandante esatto facendo ulteriori danni diventa ancora più interessante grosso il tutto sì sì ci sono una serie di carte strane che portano gli avversari a costringerli a fare degli effetti per esempio qui Ingenious Mastery costringe a fare Scry Wisdom Censhi costringe tutti quanti a pescare cioè si entra in una fase diversa di design dove noi vogliamo costringere gli avversari a fare le cose che va a colpire il nostro comandante è curioso come approccio bisognerà probabilmente cercarsi delle carte è molto strano e secondo me è utile mettere magari un paio di queste carte come flex slot sì 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 assolutamente ovvero quelle non succede ma se succede se succede mi diverto è chiaro che anche in questo caso dipende un po' dal playgroup che volete affrontare da che carte mi interessa trovare cosa vi potrebbe piacere come stile noi in questo caso ci permettiamo di fare un po' di proposte un po' diverse però per il comandante è diverso secondo me il bello di questo comandante è il suo design differente dal solito che quindi ci porta magari a fare della sperimentazione dei mazzi un po' pazzi anche non standard diciamo così non tradizionale ma di fatto un set dedicato a Dr. V perché dovrebbe essere tradizionale dovremmo un po' rispettare il flavor di questo comandante quindi perché no andare anche a cercarci delle carte un po' diverse dal solito si chiuderei questo tipo di diciamo piano di con una serie di effetti che in questo caso vanno a sfruttare il TARDIS che mi sembra certo che è molto in flavor assolutamente in flavor carta che troverete nei precostruiti dedicati ad Ortov è una delle poche carte finora spoilerate e alcuni effetti di un tap e di copia perché ricordiamo che abbiamo Timestream Navigator e quindi potremmo avere la possibilità di fare magari ma ci sono tanti effetti di un tap e non tap su quelli che sono gli effetti che devono in qualche modo mettere le carte dal cimitero in fondo quindi alcuni slot magari pensatevi se puntate su carte che fanno questi effetti quindi ha senso vedete sono quasi tutti artefatti introdurre delle carte di questo tipo laddove vi possa essere interessante puntare di più su queste modalità qui potrebbe starci bene un po' di 8000 eventualmente possono essere tante cosette carine e poi vi ricordo che nel mazzo Chaos di Warhammer 40.000 sono uscite un sacco di carte con cascata proprio Nicola Rizet che diciamo girano molto bene con con questo comandante che quindi andatevi a spulciare perché sono molto molto carine e un altro anche qui di nuovo modalità con cui sfruttare questo River Song anche qui cambiando completamente fronte perché il cascade è una cosa che non abbiamo neanche citato ma che ci può stare tranquillamente proprio che cascade di nuovo porta a mettere carte in fondo nell'ordine che vogliamo perché poi alla fine è quello che desidera River Song che diciamo è proprio come posso dire frizzantino molto izet come concept mi piace ed è sicuramente interessante se vi capita di recuperarla questa carta e fateci un pensierino perché la ritengo molto interessante come design e come flavor anche se non siete amanti di Dr. W perché riporta in auge la possibilità di pescarla al fondo che è una cosa incredibilmente interessante anzi che a parte Grenzo Dangerous World non ha altri rivali altre carte che propongono questo tipo di effetto quindi sono molto contento che venga riproposto questo tipo di meccanica anche se appunto in Universi Beyond ma spero magari che in futuro ne possano saltare fuori altre o che magari altri enabler di questo tipo di meccanismi possano venire fuori che dire abbiamo cercato di raccontarvi un po' di questo comandante ma ripeto è sicuramente un comandante che ha bisogno di un focus molto profondo e di un po' di ragionamenti di design per riuscire a costruirlo al meglio perché appunto ha tante variabili possibili tanti modi per essere montato e quindi è anche abbastanza difficile da intercettare nelle sue meccaniche a parte quella del bottom che è abbastanza chiara tutto il resto cosa mi posso aspettare da questo comandante gli avversari non lo sanno e secondo me questo è anche un bene quindi direi saluto come sempre Demetrio per la chiacchierata per avermi dato supporto nei suoi colori tra l'altro in questa disamina e ci si rivede presto qui per parlare di commander e non solo alla prossima